Sì, devo dire, a sera tarda, a tarda sera, a tarda sera il basso sta tardando, sta accortando a tarda sera. Scusate, siccome i miei colleghi di lavoro sopportano tutti i giorni la mia passione per la musica, stasera c'è una propria rappresentanza con tanti di striscioni, non credo che ci sia un'interruccierezza. Grazie. Non doveva essere a bicicletta. Grazie. 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 Grazie.